Per indovino dove ti ho portato? Eh, non lo so, Steph, mi sembra una banca dal simbolo del dollaro, lo deduco, no? Esatto, e che cosa dobbiamo fare secondo te? Eh, prendere soldi? No, anzi sì! Eh, aprire un conto in banca? Più o meno? Non dirmi che dobbiamo rapinarla Ahà Non dirmelo, Steph, davvero? Sì, sì Oh mio Dio, sono felicissima, cioè non lo dovrei dire, però ho sempre desiderato farlo, quindi... Sai com'è, Steph? Non vedo l'ora di iniziare Allora, lui è il nostro autista per scappare quando finiamo di rapire Ah, ciao! Ok, di rapinare, scusami Comunque c'è scritto Ok amico, ricorda, il boss vuole tre diamanti da questa rapina Hanno installato delle tecnologie di sicurezza avanzate, quindi non sarà facile Buona fortuna Uff, ok, mi ha messo subito un po' di ansia, Fere No, io sono felice, sono gasata, Steph, non vedo l'ora Ok, allora Non mi può fermare niente nessuno oggi Allora, per ora, ovviamente, Fere Aspetta, 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 aspetta Chiediamo il piano prima di andare Esatto, sì, non mi hai spiegato niente Disinvolti, tranquilli Sembriamo persone con soldi Ok Che vogliamo aprire un bel conto, giusto, Steph? Ovviamente, guardati subito intorno E andiamo Ok Buongiorno, sì, salve, salve, sì Sono il signor Steph Devo aprire un conto in banca Siamo ricchissimi Siamo ricchissimi Quindi ci guadagnate un sacco ad averci come clienti Esattamente Non c'è bisogno di fare voci strane, però, Steph Se no non si è avviso No, è la forza Scusa Comunque I micchi non parlano così, Steph Allora, ho già guardato un pochino C'è una porta chiusa di ferro lì Ok Che non possiamo rompere E ci sono ovviamente i vari villager Sì, stiamo discutendo su come vogliamo aprire il conto Un secondo Quindi Sì Una di queste pressure plate, Fer Secondo me apre quella porta Dici? Sì E come facciamo? Eh, dobbiamo trovarla Allora, aspetta Fai finta di parlare con ognuno di quei villager E premi due plate alla volta Ok, salve Sì, sono in movimento Perché sono felice di aprire un bel conto in banca Però non so se lei è l'impiegato giusto Per questo servizio Forse lei? No Forse Non è neanche lei Forse lei mi sta più simpatico? No Steph, che accidenti mi stai facendo fuori Mi scoprono così No, no, Fer Fer, è plausibile È plausibile Oh, sono caduta qui Accidenti Ho perso un attimino L'equilibrio Che succede? È trovata Ce l'ho fatta Sì, sì Ok E come facciamo? Andiamo un attimo in bagno Al bagno, sì Sta con me, sono un po' agitato Ho bisogno del bagno Vieni veloce, vieni veloce Vieni veloce Allora, se premo questo Direcchemente gli chiudo la porta Ok, perfetto Ma come fai a sapere tutte queste cose, Steph? Ma chi ti ha dato la mappa della banca? Il boss Chi è poi il nostro boss? Non mi hai spiegato nulla Signor Maglialino Ah Perché chiedi tutte le volte queste cose, Fer Secondo te chi è che vuole diamanti? Comunque Ecco perché vuole altri diamanti Comunque mi ha dato lui la mappa della banca Quindi qualcosina la so Ah, per quello sei tutte queste cose Esatto, allora Ricorda Prima i soldi Poi i clienti E infine la morale Ok, ok In che senso la morale? Praticamente siamo nella sala della banca Quindi queste cose le leggano solo agli impiegati, Fer Giustamente Ok Non è proprio un bel modo di lavorare È abbastanza motivazionale, no? Prima i soldi, poi i clienti Tecnicamente dovrebbe essere Prima i clienti Poi i soldi E poi la morale, dai che scusami No, la morale nel senso delle Capito? Cioè Avere interesse nel fregare gli altri Quindi sono persone bruttissime Si meritano di essere rapinate Facciamo bene a derubarli almeno Non è una bella banca Esatto In ogni caso Allora Qua c'è la cassaforte Quindi noi dobbiamo andare qua Ok Sei sicuro? Vedo un bot Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Allora C'è un'altra porta di ferro qui Ok E sicuramente abbiamo bisogno della combinazione dei numeri Per riuscire ad aprire la porta E chi ce l'ha sta combinazione? Nessuno di noi, Fer Allora Abbiamo bisogno di trovarla Aspetta, aspetta Aspetta, vieni Steph Ok Ma che è sul posto? È la sala Ok, ok Allora non c'è nessuno Quindi secondo me possiamo curiosare E vedere se troviamo un codice da qualche parte Ok, questo Piccolo giardino, Stefano Un giardino appassito Cioè ma che tristezza Beh, i banchieri non credo L'interessi molto Peggio delle piante che compriamo noi Che facciamo appassire No, 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 no Non è mai successo Siamo bravissimi Ho fatto l'occhialino Allora Qua non c'è nulla Qui non c'è nulla Fer Vieni a vedere la cucina Che qua c'è una cucina Magari c'è qualcosa Vedi? Ok, ok Ok, qua c'è soltanto del carbone Qua non abbiamo nulla Qua non abbiamo nulla di utile Certo, gli ingredienti Beh, aspetta Le ricette devo controllarle Aspetta un attimino Exploding fish Ok Aspetta Sto leggendo cose strane Non legg Perché stai leggendo di pesci che esplodono? Ma che ricette sono? Non è lì la password Ho capito che è lì Vediamo Qua ci sono ingredienti Qua c'è una fornace Nella cucina Non vedo nessun indizio Per il codice segreto Quindi non è qui Vediamo in bagno Ma chi lo mette in bagno, Steph? Trovato Come trovato? Dov'era? Era in bagno Nel... Qua, qui dentro Proprio qui Steph, quello è il water Eh, lo so Va bene, in effetti Chi è che avrebbe mai guardato nel water? Io non avrei mai guardato Pensavo che fosse questo Esatto Vedi questa specie di cosa? Ho detto Magari dobbiamo analizzarli E sarà qui il codice Invece no Beh, potrebbe essere Perché guarda che non ho tutto il codice, cara Non ce l'hai tutto Non mi avevi capito Ho soltanto Il numero due Ok Quindi ci serve Una combinazione di tot numeri Non so quanti Eh, chissà quanti sono Il primo numero è il due È uscito un cd Ci può servire? No Aspetta però Ahà Dice sei Fai vedere Guarda Fai vedere Fai vedere Tenilo in mano Fai vedere Fai vedere Fai vedere Fai sei Sei Ok, quindi Teoricamente Due E infatti qua non c'è un altro cd Quindi è per forza È per forza il Ok Ok, ce ne manca Secondo me almeno un altro Vero? Eh, i codici guarda Sono di solito da tre o quattro cifre Allora Cucina guardata Bagno guardato Guarda Steph Ma fai re ma la smetti L'ho trovato L'ho trovato Dove? Stavo girando questi cosi Guarda Premi Cioè inquadra questo Basta prenderlo Tre Tre Ok Due E te lo diceva che solo se ci passavi Due Tre E sei Vieni Andiamo a provare Andiamo a provare Andiamo a provare Ma come stai l'ordine? Eh, secondo me In base all'ordine dei numeri Due Tre Sei Capito? Ah, ok Vediamo Due Due Tre E premi il sei Ha funzionato? No No? No, Steph Stiamo sbagliando qualcosa Ok Forse ce ne manca un altro Allora Tu vai a controllare E io provo l'ordine diverso Bene, mi sa che finalmente ce l'ho fatta Sentito dalla porta aprirsi E ho dovuto premere un po' tutte le leve a caso E alla fine si è aperta Ok, ok, ok Essere figo ma non lo sono stato Allora Inserisci nel Anvil il foglio con la password Qua c'è un foglio Ok E adesso che dobbiamo fare? Allora Qua c'è un foglio Qua c'è un bottone Ok Ok Teoricamente io dovrei mettere questo foglio nell'Anvil Ok Cambiare il nome al foglio Ok E mettere il nome della password Premere il bottone E la porta si apre E se ce la facciamo Qui dentro c'è la cassaforte Oh ma che bello Si intravede anche qualcosa Si intravede Guarda Eh sì Vedi un pochettino Quindi dobbiamo tornare indietro Fere E trovare la password Ok E contendo che tu hai già frugato tutto Mi spieghi dove cavolo è? Non ho la più pallida idea Con me è nell'armatura No, io l'ho già tolta Già tolta e rimessa Non è successo nulla Allora Vediamo nella stalla di sopra Vediamo un attimino Io controllo per sicurezza Golden Leggings Golden Golden Fere non è che la password È qualcosa che ha a che fare Con il loro motto Prima i soldi Poi i clienti Infine la morale Ok E come possiamo tramutarla In una password Steph Non ho idea Prima i soldi Poi i clienti Poi la morale Quindi Soldi Clienti Morale Non credo sia una buona password Eh perché dice ricorda Quindi non mi sembra Che sia solo un motto Anche perché non avrebbe senso Come motto Steph No per una banca Senso come Eh Sì 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 Se lo dici tu Io mi sa Che stavo pensando A parte che qua Buongiorno Ok Non è che La password La sanno loro Però se io ci parlo È pericoloso Eh ma anche a me Hanno già visto Steph E siamo andati qui dietro Allora tu sei lì Un attimo Un attimo Buongiorno No Non sa Non sa nulla Non posso neanche chiedere Eh lo so Lo so Lo so Lo so Lo so Ma se entro qui dietro Li disturbo No 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 Attivano l'allarme E siamo fregati Ok ok Mi è venuta in mente un'idea Dimmi Tu hai trovato Uno dei codici In un item frame Sì Esatto Sopra abbiamo controllato tutto Ma qui Ci sono degli orologi Eh ma come facciamo a passare Steph Aspetta Guarda Basta che ci passi il cursore Senza toccarlo Steph Dice marmellata Cosa È vero Ok andiamo a scrivere Marmellata È marmellata vero Evidentemente sì Chiudiamo la porta Allora non tocchiamolo Così non distiamo sospetti Loro sono convinti Che la loro password È ancora lì Bella intatta Ok Vieni 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 Sono incastrato Chiudiamo tutte le porte Fede che è meglio stare attenti Ok Perfetto Quindi Io vado qua Metto il mio bellissimo foglio Lo intitoliamo Marmellata Ma che la password è Ma porca miseria Sembra una delle tue password Steph Ok Provo Sì Oh Sono dentro Steph Sono dentro Vieni Ok Oh mio dio Ok Oh mio dio Steph Guarda le chest Sono messi in posizioni Un po' strane Signor Maialino Aveva chiesto Soldando tre diamanti Giusto Ma che me frega Io li prendo tutti Io li prendo tutti Io non ho lo spazio Per prendere tutto La password Non mi serve più Preferisco altri smeraldi In questo momento Una chest di 24 diamanti Facciamo che tre Li diamo a signor Maialino E gli altri mi ritengo io Qua ci sono un Edelstar L'apis Non ce ne facciamo nulla L'enchanting nulla Inizia a prendere La Edelstar Ok Altri diamanti Vado 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 Allora aspetta Aspetta queste cose Non le lasciare buttate in terra Le riprendo Ok Sì in effetti Sarebbe un indizio Non possiamo lasciare indizio Diamanti 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 Le nostre impronte digitali Sopra Steph Che sei pazzo Eh non ce l'ho pensato Scusa Che sei pazzo Che poi rimangono lì Scusami scusami Non volevo Non volevo Ok Tutti i diamanti presi Queste cose sicuramente Non sono niente di che Ok Ho notato qualcosa di pericoloso Alcune chest Sono delle trap chest Ah Non vorrei che a furia di aprire Potremmo rimanere incattrati Lasciale stare Steph Conviene andarcene Secondo me Sì Sì Abbiamo preso abbastanza Sì Sì È giusto il tuo ragionamento Non rischierei Ok Allora Richiudiamo la porta Oh cavolo Non si richiude Oh parca miseria Vai via Vai via Vai via 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 Allora Allora Ci penso io Ok Ok Come facciamo ad andarcene adesso Tranquilla Perché il problema è uscire inosservati Sì 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 Tranquilla C'è da dire che i villager non sono molto svegli in sta banca Vado Secondo me Il miglior modo È così Ok Smeraldi Scappa Ma dai Steph Non è un buon modo Lo sanno tutti Che i villaggi Si distraccano con gli smeraldi Entra in macchina Entra in macchina Ti odio Steph Mi hai fatto far il giro Delle Dell'asino E alla fine Ce l'abbiamo fatta Ottima rapina andata Ovviamente Mappa fatta Dal nostro assistente segreto Quindi come sempre Ringraziate tantissimo E direi che ci possiamo Fermare così Pieni di ricchezze Pieni di ricchezze